Giorno di San Valentino, la festa dell'amore universale Oggi vi racconterò la storia di Romeo e Giulietta Ma dove è ambientata questa storia? A Udine Dovete sapere che questa storia proviene dal Friuli Tutto si svolge nel lontano 26 febbraio 1511 A Udine, durante la festa di carnevale nel palazzo di Savornian Oggi piazza Venerio Nobile e potente famiglia Lucina, 14 anni Alla festa entra in scena con una grazia indescrivibile Ballando, cantando e suonando E fa innamorare il cugino Luigino da Porto Capitano di Cavalleria Di Cividale Fra i due scocca la scintilla dell'amore Destino crudele però Vuole che mesi più tardi Luigino resti gravemente ferito In una battaglia E' Lucina costretta a sposare uno dei Savornian Disperazione? No Perché Luigino non dispera Mantiene vivo l'amore per Lucina Scrivendo la novella a Giulietta Ambientata a Verona in un'altra epoca 60 anni dopo Questa novella Finisce nelle mani di Shakespeare E diventerà Il dramma teatrale Più famoso in tutto il mondo Quindi Venite in friuli E scoprirete Dove si ambienta la vera storia Ciao